Omar riprendi, guarda dove siamo oggi, siamo venuti a cercare il castagno secolare, eccolo qua, ha un'altezza di 26 metri e una circonferenza di 10. Omar riprendi, le prime telecamere al mondo che hanno ripreso il castagno monumentale, vedi c'è scritto lì, albero monumentale. Attenzione Omar, siamo al castagno di Roggio, è impressionante quanto è bello questo castagno, Omar riprendi, abbiamo avuto un permesso speciale e qui accanto a noi, eccolo qua, è il castagno di Roggio, guardate che imponenza, guardate com'è grande. Attenzione Omar, ti potrebbe cascare in testa un ramo, un ramo del castagno di Roggio e rompere la telecamera, stai attento, ha un'altezza di 27 metri e una circonferenza di 10, è impressionante, in questo bosco, attenzione Omar riprendi.